Enrico Bartolini è arrivata la seconda stella e il Mudec che porta fortuna, a parte gli scherzi, impressioni, emozioni, certezze. Un anno di sacrificio, abbiamo fatto nuove aperture, siamo stati fortunati, visto che è stato premiato anche il casual a Bergamo e la trattoria Enrico Bartolini e la testina della Pescaia. Sei il più stellato in assoluto di somma, non è tanto la quantità delle stelle, ma la qualità del lavoro e della squadra che adesso deve impegnarsi a maggior ragione. Non ci aspettavamo così tanta attenzione. Senti, rispetto a prima è cambiato qualcosa che ti ha meritato questo riconoscimento ulteriore? Ogni anno si matura un po', si fanno delle riflessioni. Non è che hai migliorato molto? Non saprei, ogni giorno cerchiamo di dare un tocco di identità a quello che si fa, l'impegno è costante. La qualità magari, visto che si invecchia, magari migliora. Senti, da oggi cambierà qualcosa? Si rimane concentrati severamente e con disciplina su quello che finora abbiamo fatto. Lo confermiamo, se abbiamo la fortuna di avere anche delle nuove idee, benvengano. Grazie, buon lavoro. Evviva!